Ben trovati telespettatori del sasso nello stagno torniamo purtroppo sulla crisi idrica l'anno scorso ce ne siamo occupati a luglio quest'anno dobbiamo già cominciare a preoccuparcene ad aprile ovviamente un segnale che qualcosa non va fate qualcosa per risparmiare acqua questo bene fondamentale sentiamo subito cosa ne dice la gente qui a Rovetta Dica ma sta attento appunto al consumo come? come? quando faccio la barba raccolgo l'acqua e non continuo a fare scorrere esatto quando lavo i denti non continuo a fare scorrere il rubinetto secondo lei la gente rende seriamente questo problema? secondo me no purtroppo no forse i giovani gli anziani sono abituati a vivere in un certo modo fanno la barba continuamente con il rubinetto acceso lavano i denti con il rubinetto acceso e poi non lo so lavatrici magari bisogna farla andare di sera fare dei programmi un po' più corti gli elettrodomestici dovrebbero essere programmati perché ormai si fa solo programmati in modo da avere consumi ridotti quindi speriamo che la tecnologia aiuti anche sui rubinetti c'è appunto sì volendo si può avere quello che si schiaccia e si chiude da solo non è tanto comodo però oppure anche delle speciali bocchette che limitano il flusso dell'acqua sì anche un po' poco forse servirebbe più educazione magari anche? beh pensarci, preoccuparsi forse invece siccome noi ce l'abbiamo l'acqua e fino adesso problemi non ne abbiamo avuti vanno avanti così, si vanno avanti così l'anno scorso ne abbiamo parlato io sono di Milano a luglio ne abbiamo parlato della siccità adesso dobbiamo parlare ad aprile eh, cosa dobbiamo fare? e l'anno prossimo quando ne parliamo? A gennaio? non so non so cosa dire è un casino veramente anche noi a Milano abbiamo questo problema mi sa che quest'anno ci razioneranno l'acqua e per lei sarebbe un problema? eh sì, cavolo come per tutti è un problema no? per sono quelli che si organizzano della serie docce veloci 5 minuti di cronometro no, no non è che lei è un abituato non so a fare magari mezz'ora di doccia quella cosa lì per me è una cosa fondamentale anche quando ti lavi i denti è un classico per me io me li spazzolo chiudo l'acqua poi la riapro e quando mi faccio la barba uguale mi metto io faccio ancora la barba a mano per cui quando devo pulire il rasoio apro l'acqua se no la chiudo quello il risparmio ci vuole qualcuno dice che sono i più giovani attenti qualcuno dice invece che i giovani se ne fregano no, secondo me anzi i giovani sono più attenti di noi a questo discorso dell'ambiente in generale io penso di sì che hanno più coscienza forse noi abbiamo vissuto un momento più non c'erano questi problemi per cui non abbiamo avuto modo di di seguire queste regole invece i giovani secondo me sono attenti anche il discorso dell'aria tutto, capito? bene no, io sono convinto di sì sono più sono il nostro futuro speriamo il problema è che le tre cose che non si comandano una di queste è il tempo il tempo fa quello che vuole non lo decidiamo noi per fortuna non lo decidono i politici per fortuna abbiamo solo la sfiga che la sfortuna scusa è che il tempo è gestito dal Signore non c'entra né l'inquinamento non c'entra un bel cavolo di niente perché se all'epoca dei romani c'erano questi problemi è chiaro che non è un problema di smog o di cose è l'evoluzione dell'era del tempo quindi tutti i discorsi che fanno gli scienziati sui nostri comportamenti allora gli scienziati quando fanno questi discorsi dovrebbero andare indietro nel tempo e vedere com'era il meteo allora secondo te non l'hanno fatto? a parte il fatto che gli scienziati i meteorologi ora come ora non sono capaci di fare niente come c'erano i virologi adesso sono i meteorologi oggi doveva piovere ah da che sol? io ho visto sole abbiamo visto due previsioni diverse allora su quello che dicevano secondo la grafica doveva esserci la pioggia perché doveva arrivare la perturbazione e di conseguenza doveva piovere se c'era la perturbazione quindi secondo te è un ciclo insomma in questo periodo non piove ma tornerà a piovere? certo che tornerà a piovere perché prima di essere cioè come ha fatto adesso usiamo la testa come ha fatto Annibale a scavalcare le Alpi se c'era la neve punto di domanda vuol dire che in quel periodo la neve non c'era sulle Alpi vuol dire che i passi erano accessibili anche per gli elefanti non solo per gli uomini usiamo la testa le posso urbare un minuto stiamo facendo un'inchiesta sul problema idrico ah ma non sono di qui sono di Bergamo a Bergamo non c'è problema idrico? c'è Alzano Lombardo una marea di comuni c'è c'è anche là e cosa dobbiamo fare? cosa dobbiamo fare? usare usare molto meno l'acqua rispetto certo no no lei ne usa poca ne usa tanto? ma no cerco di stare attente sinceramente perché so non ha tutti i fiori da innaffiare? non ancora ok non ancora vedremo speriamo che piova l'anno scorso ne abbiamo parlato a luglio di crisi idrica perché solo allora emergeva il problema ma non so qui avevo letto che anche in questi paesi qui chiudono ovunque 36 comuni nella Bergamasca hanno problemi di da Albino Alzano Gandellino Nembro mi raccomando risparmiacqua senz'altro no no sono una risparmiatrice molto bene grazie tutte le cose è un bel problema manca l'acqua è un bel problema e già ad aprile si comincia a pensare a chiudere un po' i rubinetti sì ma noi siamo già attenti io l'ho sempre reciclata ah sì? sì in che senso è riciclata ci spieghi adesso non non spreco niente anche magari riesce anche a prendere quella che cade dal cielo quando? no quella no però adesso sto anche molto più attenta ma sono sempre stata attenta sull'acqua bene bene si accorta anche lei che sicuramente saremo senza fra poco l'anno scorso il problema è uscito a luglio adesso arriva già ad aprile più è quando si dovrà andare in bagno che si schiaccia non vero quella è la cosa grave è preoccupata allora? eh sì ho paura sì secondo lei ci sono tante altre persone come lei che si preoccupano non lo so o tante persone non gli danno il giusto peso? non pensano invece secondo me è la cosa grave stiamo parlando del problema dell'acqua sì dicono che i giovani sono più attenti a non sprecarla è vero? è vero ma tendenzialmente bisogna essere attenti un po' tutti io penso non solo i giovani e secondo te la gente gli dà il giusto peso a questo problema? beh giustamente bisognerebbe dare qualsiasi problema al suo peso e sicuramente dare il peso a un fattore come l'acqua che è la cosa più importante essenziale nel chi vuoto vivere nella vita di tutti i giorni secondo me ha importanza è come dargli peso e tu nel tuo piccolo riesci a fare qualcosa? si fa si fa quel che si può ma si può sempre fare di più e bisogna cercare di fare di più anche riguardo una questione come l'acqua come? per esempio non sprecandola non usandola in modo non diciamo in modo non non che possa recare diciamo un danno nell'avvenire visto che è un problema vero ed esiste e bisogna cercare di rispettare un po' anche quelle che sono le ordinanze dei vari paesi per esempio non lavi l'auto si non lavi l'auto o magari non la sprechi per esempio quando devi non so per dirti stai facendo per esempio i piatti invece di lasciarla andare 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 ma usarla nel modo più semplice possibile magari il cestello esatto esatto e poi secondo me bisogna anche cercare poi è un mio pensiero questo un mio pensiero l'acqua non solo di sprecarla ma di usarla anche in un modo corretto nelle cose più importanti è grave molto grave molto grave che d'altronde più che limitare l'uso domestico non so neanche io cosa potrei fare ma la gente che dice sì sì risparmiare spegnere l'acqua con il salvo di denti ma poi alla fine lo fa davvero qualcosina nel nostro piccolo possiamo sempre fare qualcosa e il tutto migliora sempre però non so forse magari servirebbero degli interventi un po' in alto tipo non so non so sparone perché non so dei bacini però il problema è quello è bravo perché se i bacini non si riempiono quindi non so io nel mio piccolo cerco di limitare fare limitare il consumo di acqua la doccia a 5 minuti al posto che 15 non so faccio la lavastoviglia lavatrice al pieno carico quelle cose lì però è un problema che comunque tu senti no più che sento vedo vedo non c'è la neve non c'è vedi il serio è completamente vuoto vedi i laghi ho visto il lago di Lecco il lago di Iseo sono proprio bassi bassi quindi vuol dire che l'anno prossimo siamo passati come Sicilia che prendono l'acqua del mare non lo so vedremo cosa ne pensi di questa cosa la depurazione dell'acqua salina tutto bene l'importante è che se non c'è l'acqua bisogna un pochino ingegnarsi lo fanno già in tanti paesi africani se ne parla anche in Italia speriamo non arrivare a quelli livelli lì però d'altronde se non si può fare altro sicuramente svuoteremo anche il mare d'altronde non so crisi idrica è un problema che la gente sente? beh decisamente sì direi che forse sarebbe opportuno che la gente prendesse coscienza che effettivamente la mancanza d'acqua può generare tanti problemi sia ai singoli che alle attività produttive in primo luogo in generale è tutto forse bisognava pensare prima a creare dei bacini di raccolta ora se non piove forse è troppo tardi ne parlavamo proprio nell'intervista precedente di questi bacini d'acqua che sarebbe buona cosa ma come li riempiamo? adesso è troppo tardi forse per tesoro prima invece qualcuno è lanciato sull'idea che sia una cosa ciclica ma sì tornerà a piovere speriamo però ora cosa facciamo? stanno già pensando in altre regioni di non dare l'acqua potabile per riempire ok è un aspetto marginale le piscine per l'agriturismo però se vivono su quello diventa un problema è stato toccato anche l'idea di utilizzare l'acqua del mare desalinizzandola va bene può anche essere visto che è in mare ce l'abbiamo però anche lì per fare i potabilizzatori ci vuole tanto tempo bisogna pensare a risolvere il problema adesso l'anno scorso abbiamo parlato a luglio di questo problema quest'anno ad aprile l'anno prossimo speriamo che qualcuno abbia fatto qualcosa nel frattempo però si spensa sempre che altri debbano fare iniziamo a risparmiare noi nell'utilizzo quotidiano quello che si può c'è una piccola pausa per il sassano allo stagno e tra poco ancora le interviste da rovetta la crisi idrica non piove è importante per me è uguale ci hanno detto che guarda che i signori va a intervistare i signori sopra i 60 lei è sopra i 60 ho fatto i 79 oggi auguri auguri ci dicono guarda che loro sono i meno sensibili loro sprecano un sacco di acqua chi dove poi non lo uso neanche sono abituato in africa quindi lo so com'è che poi là c'è più acqua di qua davvero è stato dicevo anche lui è 52 anni là ah però e com'era lì è meglio dell'italia l'italia fa schifo lo dico bello chiaro quello lì vengono in vengono in italia potrebbe perché i neri non hanno voglia di lavorare lavorano le donne se ne posano quattro sposate quattro concubine e fanno lavorare loro hai capito e la situazione acqua che ha trovato in questi anni giù ma se c'è pieno di acqua in africa fanno vedere in televisione che vanno al posto mai visto il posto in vita mia tutto automatico quindi bisogna andarci per rendersi quando arriva non forte va giù basso quando arriva forte basso e sopra poi c'è un bottone schiacci va su sopra quando arriva poco il fiume niger arriva dall'esito quello grosso dell'esito attraversa tutta l'africa tutta la nigeria e sbarca giù a portar quindi vuol dire che il problema è più preoccupante qui in italia che giù là non c'è problema per l'acqua per niente ho visto anche la tempesta e anche la neve in africa si a giosa 1600 metri nevicava una volta io andavo anche a cazza là quindi ci dici che bisogna stare più attenti in italia all'acqua perché in italia è un disastro io non abito qui abito all'Effe e all'Effe sono estremamente problemi non ce ne sono chiaramente uno deve non farne uso dell'abuso dell'acqua anche ne so annaffiare il giardino e pulire la macchina così però l'acqua c'è un'acqua che è lente che ovviamente sovrasiede segue il discorso acqua ha rilevato che sono tanti comuni in cui ci sono problemi Albino Alzano Lombardo Nembro Valbrembilla perciò non è una cosa delle città più grandi magari Milano anche qui da noi il problema è davvero molto preoccupante l'acqua è un bene primario quindi chiaramente dobbiamo dare una mano anche noi quindi come? avere un consumo giusto non so ti lavi i denti intanto che ti lavi i denti chiudi l'acqua tutti lo dicono questa cosa ma poi alla fine effettivamente uno lo fa perché ci vuole una coscienza civica chiaramente e tocca a noi quindi secondo lei noi italiani siamo attenti a queste cose ma io lo sono anche perché ho mio figlio che è un oncologista e quindi e quindi mi bastona spesso e volentieri e devo dire che non so anche la doccia non puoi farti quattro docce a settimana e quindi ne fai una vedi te e cerchi di risparmiarla quindi immagino che figlio nemmeno lavi l'auto in giardino assolutamente no in questo momento no si aspetta un misetto si cerca di pulirla però ci vuole veramente un consumo responsabile ma lei si aspettava l'allarme lanciato da noi acque ad aprile chiaramente sì perché basta vedere le precipitazioni che ci sono state e quindi tutto deriva da questo l'anno scorso a luglio è scattato l'allarme esatto vuol dire che siamo messi male evidentemente il futuro come lo vede? ma il futuro speriamo in qualche precipitazione in più sembra brutto dire ma speriamo in tanta neve in più prima di tutto perché quello è il bacino principale di apprendimento dell'acqua e cerchiamo di dare una mano anche noi oltre che chiaramente avere non dei rubinetti aperti nel senso che gli acquidotti pare che il 30% di acqua se ne vada non utilizzata ma nel senso lei è uno di quelli che sa dalla parte il tempo è ciclico poi tornerà a piovere questo è un bel dilemma nel senso che tanti dicono quello che stava dicendo lei adesso e certi scienziati dicono che non è vero onestamente non ho una conoscenza tale da dire sicuramente andrà in quel senso senti qua ad aprile parliamo di mancanza d'acqua sei attenta al problema idrico da crisedrica sicuramente oggi come oggi non si può fare a meno di essere attenti per forza hai qualche bimbo sì tre tre devo dire che sono anche più bravi di me a segnalare perché a scuola ne parlano ne parlano molto più di un tempo e qualche semino dà i suoi frutti come si comportano loro sono loro i primi a dire eh mamma l'acqua il rubinetto sì e invece quella che spreca acqua è la mamma certo la mamma ovvio mi sembra evidente no dai si cerca di fare il possibile si cerca bene quindi loro non giocano ovviamente non riempiono la vasca per giocare no no poi oramai noi abbiamo solo doccia per cui basta non si corre il rischio lava stoviglie non solo per una questione di praticità ma anche sì però anche gli elettrodomestici di nuova generazione utilizzano meno acqua la lavatrice stessa rispetto a un tempo hanno un utilizzo già più intelligente di tutte le risorse e l'anno prossimo quando ne parliamo di crisi idrica se andiamo avanti così oramai sarà ciclo continuo ci dobbiamo abituare a un'idea di avere magari acqua razionata che ne so 5 ore al giorno o pensi che ma no poi si aggiustere a tutto speriamo di no speriamo che la natura abbia risorse che vanno anche oltre oltre noi dopo l'impegno deve essere massimo da parte di tutti una crisi idrica a aprile finita l'acqua d'aprile che facciamo quest'estate? beviamo la birra beviamo la birra lei si attenta a non sprecare? tentaltro bevi i vini invece di bere l'acqua posso chiedere a lei se è attento al problema del consumo d'acqua? direi abbastanza direi sicuramente interessato al problema anche perché lavoro in un'azienda che gestisce il ciclo dell'acqua cioè a Milano e qui lo stesso ente credo Uniacque per la provincia noi siamo Brianza qui invece c'è Uniacque invece che è l'ente che gestisce l'acqua per il territorio bergamasco e hanno lanciato già l'allarme 36 comuni del bergamasco sono già anche noi ci stiamo attivando come? beh adesso le azioni che stanno intraprendendo l'azienda non le conosco ancora però sicuramente stanno sensibilizzando si sta sensibilizzando la popolazione a risparmere l'acqua e notate magari nel tempo al momento ancora non saprei dirle d'altronde non mi occupo direttamente di questa attività certo a Milano come qui credo che più o meno i problemi siano gli stessi penso proprio di sì forse di qua c'è un po' di più di acqua non lo so e il futuro come lo vede? beh speriamo cominci a piovere perché pensa che sia una questione perché non vuole più piovere qua è quello è quello il grosso problema qualcuno dice che ma no il tempo si aggiusta da solo tornerà qualcuno dice l'inquinamento ci sta rovinando meglio alzare le antenne da che parte sta? alziamo le antenne guarda ne parlavo prima proprio con dei ragazzi che abbiamo scoperto il motivo del perché non piove più non so se hai visto Elon Musk che sta sviluppando sto progetto SpaceX con questi vettori nuovi che manda in orbita sono andati a portare i contatori dell'acqua quelli di Uniacque anche al Padre Eterno e anche i rubinetti prima era libera la buttava giù quando voleva adesso deve fare i conti anche lui un po' con Uniacque è messo male ah ok una volta che non si pagava esatto che si paga bisogna stare attenti esatto sei tanto il tuo problema oppure pensi che non sia così insomma fondamentale tra i mille problemi che abbiamo quello dell'acqua allora io ho visto il cambiamento climatico dei miei ormai quasi 60 anni ricordo 30 anni fa quando pioveva tutti i giorni che la ciamala Aldi Sac effettivamente adesso negli ultimi 3-4 anni è da un anno che non piove più ieri ha piovuto 25 minuti sembrava venisse chissà cosa 25 minuti di sicuro qualcosa sta cambiando però è anche vero che una mia amica appena tornata da Costa Rica è l'anno più piovoso di sempre piove tutti i giorni diluvi tutti i giorni in Costa Rica dunque non so se è un fenomeno in spostamento ciclico da una parte all'altra o se invece ci sia un cambiamento proprio climatico in atto però ripeto se togliessere i contatori un'acqua e il Padre Eterno magari agevola un po' non sprecate non sprecate l'acqua mettete la mano l'acqua se svegli la mano come? come? io ho giù il water c'è lì la lavatrice la lavatrice è fatta dentro l'acqua in una vasca e quando serve hai capito? e in cui bisogna fare se è giustissimo se costruiscono le case il grado è obbligato mettere la lavatrice e indocca che è il water che non si spreca l'acqua della lavatrice oppure riempire un bacino e poi attingere da lì non ovviamente per le cose per l'acqua da bere quella lì va quella lì va bene per il water ottima quello che sto facendo è anche profumata non inquina niente non devi operarla per l'altra ma quella lì puoi operarla tranquillamente certo e bisogna capire se no fa su dove c'è la lavatrice poi c'è un serbatoio dove c'è dentro il water fai l'entra il serbatoio vado per le due volte deve registrare l'invenzione deve fare l'invenzione e registrarla così il riciclo il risparmio è così il risparmio basta dice che il problema comunque lo sentono davvero si si no si sente gli italiani lo sentono penso di sì o non gli danno il giusto peso no penso che lo sentono un po' almeno qua da noi guardandosi in giro non c'è nessuno che spreca acqua speriamo bene e tornerà a piovere? l'anno scorso l'anno scorso domani nevicava no non è mia dell'acqua per l'acqua siamo siamo rovinati un problema grosso allora si un problema grosso adesso parlano di fare gli invasi tutti gli anni tutti gli anni che la storia lei parla di fare i vasi bisogna fare gli aspettacchi che sia l'acqua i vasi poi vanno riempiti? sì ma quando c'è un pochino d'acqua in più c'è la che mia pazienza manca l'acqua allora berremo il vino berremo il vino ha capito è la soluzione l'unica sì e il bagno? il bagno come facevano la doccia? come facevano una volta una volta erano 8-10 facevano il bagno cambiavano l'acqua una volta in una tinozza così e si lavavano oggi vanno quattro passi a casa la doccia vanno a fare la spesa arrivano a casa doccia invece lasciaranno stare potrebbe essere un'idea la soluzione è quella lì oppure vanno giù nella valle dove viene giù un pochino di acqua e si lavano l'acqua come facevano una volta ma secondo lei sono più attenti i giovani a questo problema o le persone un po' su di età? un po' tutti un po' tutti ormai la vita è così è giusto cioè è giusto non è giusto però è così lei da che parte sta? di quelli che pensano ma sia giusta da solo la situazione? diventerà sempre peggio per me col mondo che gira diventerà sempre peggio problema dello spreco d'acqua sì sei sensibile a questi temi o dici come ho sentito qualcuno stamattina non è poi questo il grosso problema no invece bisogna essere sensibili perché poi è meglio rossire prima che piangere dopo dicono no? quindi un po' di attenzione assolutamente sì qualcuno ci proponeva ma perché fare docce tutti i giorni tre volte a settimana due volte a settimana dipende anche uno che lavoro fa cioè non è che bisogna dire proprio no quindi quindi non tutti i giorni? se è necessario sì dai dipende anche dal soggetto ci sono soggetti che se li fanno tutti i giorni va bene poi sappiamo che le signore ci stanno sotto la doccia anche mezz'ora esatto riduciamo il tempo possiamo farla tutti i giorni ma non stiamo sotto mezz'ora tipo Marin due minuti anche di meno eh sì dosiamo con la clessidra no vai nella doccia con la clessidra così almeno hai il tempo e spegniamo l'acqua e spegni l'acqua quando ti certo quando ti insaponi quando fai lo shampoo spegni l'acqua perché poi siamo tutti bravi a lanciare messaggi sì dobbiamo spegnere quando laviamo i denti ma poi concretamente secondo te quanta parte degli italiani effettivamente non lo so però bastano piccole attenzioni lavo i denti quando me li lavo chiudo l'acqua mi sciacquo i capelli quando devo lavare i capelli chiudo l'acqua l'apro solo nel momento che mi serve e cerco di ridurre prossima volta che lascerai prossima volta che lascerai il rubinetto aperto ricordati di questa intervista sono fortunata perché lavoro in piscina quindi dacce la faccio in piscina ottimo vedete in piscina problema idrico sì città 36 comuni a rischio abbiamo contato i 36 l'anno scorso a luglio è abbastanza preoccupante perché di solito diciamo che la crisi idrica magari viene da giugno luglio agosto ma non è mai capitato una crisi idrica in primavera che è la stazione diciamo da noi delle piogge ormai il clima si è fatto tropicale come vedete passiamo al vento forte a Roma ha spaccato tutto la grandine purtroppo ha cambiato tutto sarà lo smog sarà quello che volete tutto noi non ci ricordiamo però nel 1969 la crisi idrica c'era uguale molto peggio di adesso perché ho visto mi sono documentato un po' c'era il po' dove i bambini giocavano a pallone dentro nel po' non c'era un filo d'acqua però se ne fregavano tutti la cosa non era preoccupante invece oggi la gente si preoccupa e cosa non lo so come andremo a finire comunque quindi stai lanciando il messaggio non dovete preoccuparvi bravi dai andiamo avanti ugualmente che le riserve di acqua ci sono sotto acqua adesso li iniziamo prima di restare senza acqua penso ci vorranno mille duemila anni dunque a noi non è che ci tocca più di tanto ho capito ma il futuro i figli dei figli dei figli dei figli se nel 60 mili anni 60 non c'era l'acqua siamo andati avanti fino adesso non c'è ancora l'acqua andremo avanti ancora andremo su Marte a prenderla dai hai parlato della desalinizzazione dell'acqua cosa ne pensi di questi processi di prendere l'acqua del mare non possiamo magari anche di stravolgere allora noi penso che è una cosa normalissima se andate in qualsiasi posto nelle isole maldiviane così l'acqua viene tutta desalinizzata non hanno acqua eppure vivono benissimo stanno da Dio e non c'è nessun problema certo a Bergamo non c'è il mare ce l'abbiamo vicino è il paese è il paese del mare comunque non c'è da preoccuparsi come stanno facendo penso di crisi idrica crisi? di crisi idrica e guarda sono dispiaciuta per questa crisi di idraulica non c'è acqua non c'è acqua e non lo so io sono un abadante faccio l'abadante e quando sono di questi posti sono di 10 anni e non ho visto così una cosa di questo genere di questo caldo che è stato anche l'anno scorso anche questo anno sono dispiaciuta tanto se la ricorda lei l'estate dell'anno scorso certo tutti gli anni che sono passati che sono caduti poco precipitazioni e ieri ha piovuto un po' sono stata non nuovo l'accello sono stata felice perché sono dispiaciuta perché l'acqua è molto molto importante perché io amo la natura sono innamorata di questi posti e senza acqua è un disastro quindi lei riesce e si impegna per risparmiare acqua certo certo quando lavo anche piatto metto in un recipiente dove lo lavo e poi quanto è possibile faccio perché sono alimenti che li devi sciacquare tanto bene quindi non si può fare un po' di risparmi hai capito perché a sentire in bocca la sabbia di verdura non è piacevole però sono tanto dispiaciuta non lo so che possiamo fare perché con Dio di quale paese originaria? di Romania sono di Romania e anche lì si sente questo problema? in Romania è stato l'anno scorso un po' di di caldo di così però piove lì piove non è stato l'inverno come è stato anni passati però io parlo con la mia sorella al telefono e mi dice guarda che piove un po' di precipitazioni di più ci sono però in Italia ultimi dieci anni guarda io non ho visto una cosa di questo genere come in ultimi due anni è un po' triste triste perché ci siamo anche nella montagna no? ci siamo in montagna è un dispiacere una cosa che io sono innamorata di questa vale di natura e a mio figlio ha finito l'università idrologia e mitrologia e geografia io sono nata in Romania in un paese dove abito io tutto è pieno di montagna io sono circondata di natura e sono innamorata e mi dispiace perché sempre pensiamo un giorno che sarà non si sa credo che non lo vedo però per i nostri futuri bambini e i nostri futuri non lo so cosa posso dire di più magari ci può dire se lei pensa che magari un domani tornerà di nuovo a piovere come faceva una volta ma no guarda io sarò più felice di mondo se un mese in continuazione pioverà io esco così senza niente senza ombrello è tutto anche per questa settimana per il nostro sasso nello stagno da Rovetta grazie a voi che avete seguito la trasmissione grazie a Vladimir Lazarini per le riprese e il montaggio e ricordo sempre se avete temi da suggerire per la nostra trasmissione mandateci una mail infochiocciola antenno2.it grazie a tutti appuntamento alla prossima settimana grazie a tutti